Ciao a tutti, sono Marta Gallo. Perché scegliere i seminari online Body Code System? Perché offrono elementi metodologici e didattici per ampliare le conoscenze, approfondire lo studio, anche anatomofunzionale del corpo, migliorare la metodologia di lavoro con professionalità e qualità. Ciao, sono Silvia. Ho partecipato ai seminari online del Maestro Pino Carbone e l'ho trovato un ottimo strumento per arricchire il mio bagaglio professionale, formarsi per non fermarsi, anche a distanza. Ritengo che il sapere è fondamentale per un insegnante di danza. Ecco perché seguo con immenso interesse e piacere i seminari online del Maestro Pino Carbone e della Body Code System. Grazie a tutti. Grazie a tutti.